ok allora mi chiamo lisa ho 25 anni sono di piacenza bene e tu sei già di base estetista unico tecnica o fai altro nella vita no io di base sono estetista e sono specializzata nel campo del dimagrimento delle tecnologie avanzate caspita e come mai invece hai scelto proprio le unghie come mai hai deciso di fare il corso per le unghie e perché di base sono estetista quindi ho quello che è tipo base di manicure pedicure poi ho scelto la mia specializzazione perché mi piace molto anche il corpo ma volevo riprendere un attimino cioè volevo riprendere da quella che è stata la mia prima passione che mi ha fatto iniziare come estetica cioè le unghie solo che con tipo otto anni di mezzo non mi ricordavo più niente ho detto ok aspetta un attimo dobbiamo rinfrescarsi un attimo le ricordi quindi tu avevi già fatto dei corsi in precedenza sì i classici corsi che si fanno a scuola che durano quell'ora e mezza due cos'è permanente la base come stenderlo eccetera sì quello sì ok e invece per quanto riguarda questo corso come ti sei trovata cioè l'hai visto più semplice da capire o insomma o anche le informazioni che ti sono state date ti è stato utile diciamo rispetto a quello che avevi imparato a scuola vabbè allora io facciamo che partivo veramente da zero perché dopo otto anni la mia memoria è nata l'ho trovato molto molto pratico molto alla portata di tutti soprattutto per chi lavora perché magari io un po come tutti inizia alle 9 finisce alle 8 di sera ti metti a guardare il video alle 11 io sfido chiunque a trovare un corso che puoi fare alle 11 di sera di sabato sera di domenica sera o il 31 di dicembre per dirti quindi sotto quell'aspetto io alzo le mani dico wow subito se ci fossero altri 12 corsi così sono la prima di iscriversi per quanto riguarda i contenuti perfetti nel senso che dalla sterilizzazione a quali sono le patologie la fresa sono neanche brevi però sono tutto quello che c'è da sapere è lì dentro cioè non è troppo lungo quindi non devi star lì sì ok va bene ma è veramente esaustivo come corso bello e invece volevo chiederti tu quindi tu lavorando adesso in un centro hai invece qualche obiettivo diverso nella vita del tipo vorresti continuare a lavorare e migliorare soltanto nella manicure oppure vorresti proprio prenderlo come un lavoro a parte e continuare in questo settore no allora io vorrei continuare in questo settore mi piace tantissimo il mio lavoro e vorrei riuscire a conciliare le cose semplicemente perché tra le due passioni non riuscirei a rinunciare né all'una né all'altra quindi se riesco a conciliare le cose sarebbe il top per me certo assolutamente invece per quanto riguarda l'assistenza come ti sei trovata già ti è stata utile nell'arco delle delle giornate delle settimane insomma ti rispondevano velocemente oppure modificheresti qualcosa allora per l'assistenza guarda io ho chiesto l'assistenza soltanto all'inizio corso quando mi sono dovuta iscrivere stata bravissima ragazzi mi ha mandato tutti i link anche lei veloce come piace a me no veloce semplice boh via non andiamo troppo nei se lo voglio fare lo faccio e quindi non ho nulla da dire per quello anzi anche per quanto riguarda la correzione dei compiti ti è stata diciamo ti è stata utile sì assolutamente sì anzi a volte ero lì ma come mi risponde di sabato di domenica ok va bene alle due di notte ok va bene va bene e sì mi è stata molto utile perché magari c'erano errori che io di mio magari insomma magari ho sbagliato qua e invece dalla correzione dei compiti era tutt'altro che poi ho detto ah sì ha ragione lì andava bene ma qua va corretto quindi sì sì per quello assolutamente le persone che invece su cui dopo hai lavorato su cui hai fatto le manicure hanno notato la differenza nelle tue manicure quindi magari nella dorata nella precisione oppure sì 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 ho qualche cliente che tra cui anche mia mamma mia mamma fa la camionista quindi ti lascio immaginare come utilizza le mani quella mia madre e prima era una cosa del tipo due massimo due settimane e mezzo si alzava si spaldava veniva via tutto ma io proprio non avevo le basi per riuscire a fare una manicure con la fresa la mia era spingi spingo le cuticole taglio boh basta stopo pacizzo e via adesso tranquillamente quattro settimane quattro settimane tutte anzi si potrebbe andare avanti solo che appunto con il suo lavoro non è abituato ad averle unghie lunghe quindi vabbè ogni quattro quando me le fai ma tra l'altro ti faccio anche i complimenti perché hai fatto un lavoro veramente bellissimo c'è tutto preciso cioè nonostante poi alla fine non abbia avuto poi l'esperienza diciamo alle spalle anche un po non so nella pratica cioè in salone comunque è praticato un po il semi permanente anche un po così oppure ok perfetto sì da noi no è soltanto estetica avanzata l'estetica di base non la facciamo non la facciamo l'abbiamo persa esatto ma quindi anche comunque dopo aver non averla fatto per quasi tanti anni effettivamente hai fatto veramente un lavoro si sono in pieno stato lì ho detto vabbè piano piano un passettino alla volta sì sì mi sono divergendo tanto come ci hai trovato ci hai trovato tramite alla pubblicità oppure hai guardato qualche webinar ora io avevo mi ero iscritta mesi fa perché tutto nasce dal fatto che volevo iniziare già l'anno scorso fare questo percorso però è stato veramente un calvario trovare una scuola che mi desse quello che cercavo cioè contenuti esaustivi non un corso di qua un corso di là cioè per me poi date dove dovevi essere in presenza e io a volte vado in giro per l'italia nei diversi centri estetici per me è difficile cioè posso esserci come no quindi ho iniziato iniziato all'inizio mi sono iscritta a una video lezione su sì una video lezione quelle che iniziano alle 8 di sera ed era sugli errori della manicure mi ricordo e la stavo guardando al lavoro tra l'altro ero lì con le cuffie perché ho detto vabbè le ne erano state altre tre non ero riuscita a partecipare io ho detto no vabbè ok lo faccio dato che appunto mi era arrivata l'email era anche in un momento morto della giornata ho detto ok partecipo e da lì ho partecipato mi sono accorta che era quello che cercavo nel senso questi sono gli errori si fanno perché succede questo 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 è stata la prima cosa che ho scoperto il fatto che se si alza non potrebbe essere colpa della dell'olio della crema ok ragione esatto e il giorno dopo mi sono iscritta quindi è stato tutto perché io volevo iniziare ho fatto varie ricerche ti ho trovato su youtube in realtà no su google si su google tra le varie ricerche ti ho trovato su google e poi da lì telegram e così via finché niente siamo qua ecco no perché tante ragazze mi trovano su instagram e infatti ti avrei fatto la domanda perché in realtà ci sono tantissimi insegnanti quindi ti avrei chiesto come mai proprio io rispetto ad altri però avendomi trovato su google diciamo che alla fine non è che ci sia tanta perché su google comunque quando cerchi trovi tante cose però neanche tanti esatto invece su instagram è pieno di insegnanti che fanno la manicure le unghie e chiesto come mai proprio io e invece insomma ma seguite tante persone tanti insegnanti su su instagram diciamo che io vado molto a sensazione a pelle mi sei piaciuta come spiegato i contenuti e rimulto la mano detto ok vado da lei perché mi piace troppo non tecnicismo però sai quando si crea quella barriera tipo io ti insegno tu apprendi stai lì ecco e quindi con te non c'è stato detto sì scelgo scelgo lei e ho fatto la scelta giusta oh quindi consiglieresti questo corso ad altre persone assolutamente altre subito benissimo no veramente sono davvero contenta che ti sia stato utile che che comunque ti abbia un po' cambiato la vita in questo modo perché effettivamente una persona che tra l'altro continua con un altro lavoro in un altro settore e è un po' veramente come aver cambiato vita perché da adesso in poi farai un servizio in più continuerai a lavorare con questa cosa e tra l'altro la fai benissimo quindi sicuramente insomma anzi non so se ce l'hai su addosso eccolo qua sono precisissime quindi veramente sono davvero contentissima davvero anche se ho questo raffreddore ma tranquilla ma anch'io è un continuo raffreddore e tosse raffreddore e tosse non ne posso più mi ammalo come non so cosa è tutto a posto e niente ringrazio tantissimo veramente perché è stata davvero una bellissima intervista sono davvero contenta che ti sia piaciuto tutto il corso spero di rivederti anche ad altri corsi magari anche a quel programma quello di gel master penso non a febbraio ma marzo perché febbraio è il mese più caotico nell'estetica e non capisco cosa cosa succede ok no veramente sono contentissima ti aspetterò comunque noi ci sentiamo nella chat perché ok con me insomma con ci scriveremo per qualsiasi cosa e niente per quanto riguarda il video quando verrà caricato su youtube ti arriverà una notifica qualcosa che è buona giornata e niente noi ci sentiamo su telegram io ti ringrazio tanto e ti auguro buona giornata grazie Angelica anche a te a presto ciao